A Palermo, nella sede dell'Istituto Superiore Ettore Majorana, nell'ambito del progetto Pronti all'azione, si sono svolte alcune attività dimostrative di protezione civile a cura dei funzionari e dei volontari del DRAPC Sicilia. Le attività prese in esame hanno riguardato le procedure di verifiche strutturali da parte dei tecnici e dipartimentali, a seguito di un evento sismico che ha determinato l'evacuazione dello stesso processo scolastico. Oltre ai nove Alfano Guida e Costanza e alcuni funzionari tecnici, all'evento dimostrativo hanno preso parte anche tre volontari della Misericordia di Palermo e dieci volontari dell'Odb ERA, specializzati in telecomunicazione in emergenza, nella ricerca dispersi con l'ausilio di unità cinofile e nelle attività antincendio. L'evento ha registrato l'interesse e la partecipazione attiva degli studenti, che si sono occupati anche di taluni aspetti relativi all'attività di comunicazione e promozione. Grazie 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 Grazie